delle decisioni. Per questa ragione partirei proprio da alcune considerazioni che sono state fatte prima rispetto alla situazione attuale che sempre più vede un scollamento tra la realtà, tra la presenza di alcuni dati di fatto, per esempio dati che riguardano reati, dati che riguardano la presenza di soggetti all'interno di un dato territorio e la percezione o la narrazione, come si è giustamente detto prima, che invece troviamo non soltanto nei media più importanti, ma troviamo anche nelle narrazioni politiche o di soggetti politici. Allora partiamo proprio dal concetto di narrazione o di storytelling, che effettivamente è diventata una nuova cifra stilistica della politica, non solo delle istituzioni ma anche poi della comunicazione politica più in generale. E questa spinta verso una narrazione che abbia dei punti molto semplificatori e semplificati di identificazione di in realtà poi problemi è una narrazione che facilita una politica che è di tipo populista, cioè una politica che semplifichi molto il contesto all'interno del quale in realtà ci possono essere delle situazioni molto complesse e che dia un messaggio chiaro intorno al quale costruire poi una maggioranza o costruire intorno a questo elemento chiaro un movimento di opinione, un'opinione dominante. Allora è evidente che di fronte a un tema come la migrazione o più in generale come può essere quello della sicurezza che erroneamente spesso viene messo in collegamento con il tema della migrazione, abbiamo già oramai una tradizione pluridecennale di mistificazione continua. Insieme ad un altro collega ci siamo occupati di come la stampa, in particolare come le televisioni riportavano le notizie di reato nei momenti elettorali, in particolare ci siamo occupati del 2001 che come sapete è un anno che poi ha portato fortuna a una persona che non vogliamo necessariamente nominare e quello che è successo in questo periodo, cioè nel periodo preelettorale secondo me è estremamente indicativo di ciò di cui vorremmo forse parlare anche questa sera, cioè nel semestre preelettorale i telegiornali più importanti, in particolare quelli Mediaset ma non solo, hanno discusso e presentato delle informazioni su reati, quindi hanno dato notizia di reati in presenza di una contrazione effettiva registrata dall'Istat dei reati che erano presenti nel contesto italiano. Quindi abbiamo una vera e propria biforcazione, da un lato crescono le notizie di reato, quelle che vengono comunicate, quindi le narrazioni di cui parlavamo prima e dall'altro diminuiscono i reati, diminuisce il numero complessivo di reati. Allora prendo questo come un esempio abbastanza lampante di come le narrazioni possano essere costruite su percezioni costruite ad arte a loro volta. Ed è chiaro che i media, è inutile che lo dica voi, lo sapete benissimo, hanno un ruolo molto importante ed è altrettanto chiaro che in momenti, forse anche come questo di questa sera, di controinformazione alternativa possa essere molto utile per cercare non di avere delle narrazioni ma di ragionare intorno a dei fatti. E l'analisi dei fatti, l'analisi della realtà è un'analisi che viene sempre meno nello scenario politico, cioè il confronto che anche storicamente si faceva all'interno dei partiti, che era un confronto a volte anche serrato, minuzioso, che partiva da a volte delle analisi a livello molto macro per poi concentrarsi sul livello micro, sono un po' scomparse dal dibattito pubblico. Cioè evidentemente ci sono ancora delle arene limitate dove ciò ancora si fa, ma la semplificazione populista fa sì che già soltanto confrontarsi come questa sera senza dei tweet o un comunicato via Facebook sia quasi una rarità, sia quasi un'eccezione. Ripeto, in alcuni ambiti siamo forse abituati a vedere questo tipo di comunicazione, ma se guardiamo più in generale come si comunica oggi e come si costruiscono le narrazioni, beh questa modalità un po' desueta è una modalità estremamente rara. Questo, e vando verso la conclusione del mio primo intervento proprio per dare spazio agli altri ed eventualmente a un'interazione con i presenti, questo porta ad una concettualizzazione della politica, ad un funzionamento della politica che è sempre più incentrata sulle percezioni e sempre meno sui fatti. Allora lo vedremo rispetto anche a un provvedimento appunto di cui io so il giusto e saprò di più alla fine di questa serata, come anche la costruzione di leggi seguo un po' questa nuova tendenza che è quella di ragionare intorno a percezioni e opinioni e non ad un'analisi dettagliata, un'analisi anche che può essere conflittuale in alcuni momenti su dati che siano il più oggettivo possibile. Sappiamo bene che i dati hanno sempre una natura di soggettività e quindi devono essere considerati con cautela, ma già in un confronto, in una relazione, il dato assume una sua rilevanza maggiore, una sua centralità proprio perché è frutto di una relazione. Allora che cosa invece accade tipicamente? Che cosa accade nella comunicazione populista? Una semplificazione che porta ad una valorizzazione delle percezioni a discapito della rilevanza del dato, della conoscenza del dato e questo vale per moltissime realtà, non soltanto quella italiana. Giusto per farvi un esempio di qualche anno fa ancora circa il 50-60% della popolazione americana riteneva che Barack Obama fosse musulmano oppure addirittura, più o meno con queste percentuali se non addirittura superiori, che Barack Obama fosse nato in Kenya oppure non negli Stati Uniti. Allora questo è chiaramente un dato, come dire, molto anche semplice da rilevare, non stiamo parlando di questioni estremamente complessi. Però abbiamo queste narrazioni che vengono spinte, sostenute, costruite continuativamente da mass media che evidentemente vanno nella direzione e di una semplificazione e di una vera e propria mistificazione della realtà in alcuni casi. Allora per questa ragione riuscire a innanzitutto sgombrare il campo dalle percezioni e concentrarsi sui dati, anche per farsi un'opinione che può essere non necessariamente definitiva, può essere un'opinione provvisoria e estremamente utile, perché ci consente da un lato di imparare qualcosa rispetto alla realtà che ci circonda, ma ci consente anche nel momento in cui impariamo qualcosa di fattuale, di contrastare una narrazione di matrice populista esclusiva, non necessariamente inclusiva come potrebbe essere un populismo come quello di Podemos, ma non abbiamo il tempo di entrare dentro una distinzione tra tipi di populismo, ma di sicuro l'elemento della semplificazione riguarda tutti i soggetti che invece di concentrarsi sulla realtà si concentrano sulle percezioni e fanno delle percezioni che vengono poi diffuse anche dai mass media un punto di forza e la propria narrazione. Ecco, interrompere questa catena è estremamente importante non solo per riappropriarsi di un minimo di verità, ma anche per riuscire a costruirsi un'opinione che sia basata su una lettura reale dei fatti. Io mi fermerei qui come primo intervento proprio per dare spazio agli altri ed eventualmente ci sarà forse tempo per un secondo giro.